ciao a tutti oggi prepareremo le penne con crema di parmigiano il tempo di preparazione della ricetta è di 25 minuti circa ingredienti sono penne acqua sale pepe noce moscata zafferano parmigiano e latte diamo il via la ricetta siamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10 trasferiamo il trito di parmigiano in una ciotola e teniamolo da parte senza lavare il boccale versiamo all'interno l'acqua il sale e lo zafferano facciamo cuocere per 7 minuti 100 gradi velocità 1 adesso mettiamo all'interno del boccale la pasta il pepe e la noce moscata chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione nel nostro caso 10 minuti 100 gradi anti orario velocità soft due minuti prima del termine della cottura della pasta aggiungeremo dal foro del coperchio levando il misurino sia il parmigiano che il latte questo punto versiamo dal foro del coperchio il parmigiano e il latte con la spadola spadoliamo lasciamo cuocere senza il misurino la pasta è cotta andiamo a impiattare penne con crema di parmigiano grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti